L'auto è andata distrutta, la paura è stata tanta, ma avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l'incidente in cui la notte fra sabato e domenica un treno si è scontrato con una Fiat Panda. Il fatto si è verificato al passaggio a livello di Regali a Gualdotadino quando il treno regionale Ancona-Foligno ha impattato contro l'utilitaria. Il conducente è uscito dall'auto illeso e portato all'ospedale di Branca dai soccorsi solo per accertamenti. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Gaifana, i tecnici delle ferrovie dello Stato, i carabinieri di Gubbio e la polizia ferroviaria di Fabriano. Sono in corso le indagini per determinare le cause dell'incidente, anche se si presume siano legate al tentativo dell'uomo di attraversare il passaggio a livello in fase di chiusura. Su questo punto è intervenuta Rete Ferroviaria Italiana che in una comunicazione ha dichiarato che il passaggio a livello risultava correttamente funzionante e che la Fiat Panda avrebbe tentato di attraversare le sbarre contravvenendo all'articolo 147 del codice della strada. La circolazione ferroviaria nel tratto interessato dall'incidente è stata interrotta per alcune ore ed è ripresa nella mattinata successiva. I passeggeri a bordo del convoglio sono stati accompagnati in taxi alla stazione di Foligno.